my body coaching tv sollievo o ciao anima bella sono sempre elena tione di elenatione altilifecoach www.ida blanchett.com benvenuta sulla mia my body coaching tv per questa nuova puntata oggi nel video di oggi ti guiderò in una visualizzazione guidata per alleviare mal di testa emicrania cefalea perciò mettiti comoda e segui il suono della mia voce prima di iniziare vorrei darti alcune piccole note in piedi senza scarpe togliti le scarpe se non l'hai ancora fatto respirando in modo profondo sciolto e rilassato inizia a portare la tua attenzione su tutte quelle aree vicine alla testa dove noti che è presente della tensione o mancanza di sensazione o sensazioni porta la tua attenzione la tua mandibola al collo ai muscoli grandi muscoli del collo all'esterno cleido mastoideo alle spalle soprattutto il trapezio sinistro la parte alta della della tua schiena mentre puoi ora appoggiare i pesi che porti per tutto il tempo che ti occorre per ricaricarti e rigenerarti appoggia tutto quello che stai portando sulle tue spalle ora ruota dolcemente il collo a destra e a sinistra continuando a inspirare ed espirare e ora ti chiedo di sbattere forte prima uno e poi l'altro i tuoi piedi a terra questo aiuta l'energia che hai accumulato durante la tua giornata nella parte più alta del corpo a scendere giù e a scaricarsi proprio come la messa a terra scarica l'elettricità in eccesso e puoi oscillare avanti e indietro mentre scrolli anche le braccia e le mani nel gesto di scaricare e lasciare andare nell'espirazione via ora molto bene e mentre continui a inspirare ed espirare a fondo dolcemente comodamente per qualche istante ancora ripensando a fatti che possono essere collegati con le emozioni che hai tenuto a freno lascia libero sfogo a questa energia emozionale lascia che il tuo corpo trovi i movimenti giusti per te quelli che ti aiutano a scaricare questa tensione ora e da oggi in avanti il tuo impegno è quello di non lasciarti mai più risucchiare dall'eccessivo lavorio dei pensieri che sovraccarica la parte alta del nostro corpo e ti fa perdere il contatto col tuo centro e col tuo presente e come puoi farlo in concreto segui la mia istruzione ristabilirai l'equilibrio richiamando energia nella tua pancia ed esattamente due dita sotto il tuo umbilico in quello che in oriente viene chiamato hara visualizza percepisci il calore senti una calda luce dorata che riscalda quest'area della pancia e la stimola e migliora la funzionalità degli organi interni che vengono massaggiati e vitalizzati si occupano di assorbire e trasformare l'energia che ti serve per vivere stai più presente nella tua pancia grazie a questa energia ti aiuta a lasciarti guidare maggiormente dal tuo sentire anziché da valutazioni puramente mentali e facendo questo resti nel fluire più libero della tua verità interiore infatti la mente mente monumentalmente il corpo non mente mai un maggiore equilibrio tra razionalità e emotività fa bene ti da benessere e dissolve il mal di testa visualizza ora proprio in questo momento una grande luce dorata proprio sopra la tua testa con un raggio dolce che va a toccare a carezzare quel punto che in oriente chiamano il terzo occhio e si trova al centro e un poco sopra la linea delle due sopracciglia senti il suo tocco e il suo dolce calore proprio ora diventa un punto luminoso che si estende e si espande e avvolge di un chiarore rosato tutta la tua testa è la temperatura giusta e si trasforma nel colore giusto per te contemporaneamente un altro raggio dorato raggiunge la tua pancia nel punto del hara due dita sotto l'ombelico e da lì si diffonde dolcemente in tutta la tua pancia inondandola, colorandola, avvolgendola, carezzandola e tu sei lì curiosa anima bella che rimani a osservare queste due zone illuminate la testa e la pancia e visualizza dei canali luminosi che mettono in comunicazione queste due parti in questo modo queste due parti possono scambiarsi informazioni e energia così si equilibrano e tutto ciò può essere richiamato dall'una e dall'altra parte mettersi a scorrere verso la pancia vedere il colore venire assorbito dall'altro colore e si alleggerisce, si alleggerisce, si alleggerisce alleggerendo, 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 alleggerendo la parte alta più lieve ora più lieve ora e tutto sta cambiando progressivamente colore diventa sempre più limpido e chiaro e soffice vedi e senti la luce nella pancia farsi più intensa e calda e apre il flusso di energia in tutto il corpo ed è una buona energia un calore buono questa linfa può scorrere ora liberamente dall'alto verso il basso scaricando lungo le tue gambe tutto ciò che ha bisogno di scendere giù ehi puoi lasciare che le tue gambe e tutto il corpo si muovano come senti istintivo fare e se vuoi alza le braccia al cielo e sentiti completamente inondata di luce questa luce buona che ora può scorrere liberamente in tutti i sensi che ha bisogno testa e pancia in comunicazione connesse dai canali luminosi a seguito di questa prima introduzione fai una doccia della temperatura giusta per te quella che ti fa sentire meglio dopodiché siediti o sdraiati e procedi con la visualizzazione in questo per guidarti perciò metti questo video audio in pausa per il tempo che ti serve prendo per atto che tu abbia fatto tutto ciò che hai bisogno di fare e proseguiamo ora ti chiedo di dire cos'è che vuoi al posto del mal di testa potresti dire a te stessa una frase tipo la mia testa è piacevolmente chiara e fresca oppure ho la testa finalmente scombra e leggera e ripeti la tua frase magica puoi ripeterti questa frase anche in altri momenti della tua giornata anche quando il mal di testa non è presente o quando avverti i primi sintomi del tuo mal di testa e ora sei pronta e pronta per iniziare sistemati comodamente con gli occhi chiusi e la testa appoggiata comodamente, dolcemente inizia a respirare in modo profondo e rilassato profondo e rilassato e con ogni ispirazione lascia andare la tensione e con ogni ispirazione inspira calma e tranquillità sempre più profonda sempre più profonda sempre più profonda lasciando andare ora i muscoli delle spalle le spalle sempre più sciolte pesanti morbide rilasciate abbandonate pesanti 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 il petto, la schiena, lo stomaco, sempre più morbidi e rilassati, morbidi e rilassati, ora, l'area pelvica, le gambe, i piedi, tutto piacevolmente rilassato, niente da fare, niente da cambiare, zero sforzo, invitando, soltanto invitando, un rilassamento sempre più profondo, e puoi visualizzare la tua testa ora, e rilassare piano piano, con ogni respiro, uno a uno, espandendo il rilassamento ai muscoli della fronte, alle tempia, ai muscoli attorno alla bocca, mentre continui a inspirare ed espirare, lento e profondo. profondo, lento e profondo, da quelli del mento alla radice della lingua, delle mandibole, profondo, lasciandoli andare, completamente, tutti i tuoi muscoli, le teste e il viso sono morbidi, abbandonati, rilassati, e il malessere è sempre più morbido, lontano, rilassato, e si sta riducendo, riducendosi sempre di più, sta scomparendo, e ne resta ancora un po', profondo, scegli un dito dalla tua mano destra o sinistra, e chiedigli di diventare intorpidito, così intorpidito e insensibile, come se qualcosa di pesante gli fosse stato appoggiato sopra, a lungo, e con ogni respiro sempre più intorpidito e insensibile, così insensibile, e tra qualche istante passerai il dito insensibile sulla parte della testa che ne avesse ancora bisogno. E mentre il dito scorre sulla parte, puoi avvertire che la sensazione di intorpidimento e insensibilità si sta trasmettendo dal dito alla testa. L'intorpidimento si sta trasmettendo alla testa, e diventa sempre più ampio, la testa sempre più intorpidita, ha ogni sensazione indesiderata e cancellata ora. La testa è sempre più lieve e più lieve, e il dito può gradualmente ritornare alla sua sensibilità abituale, e il benessere continuando a espandersi, espandersi, e mentre continui a inspirare ed espirare, immagina che la tua testa si espanda, mentre un soffio della temperatura giusta sta dando la temperatura giusta. E puoi creare un'apertura in cima alla tua testa, da cui, se vuoi, puoi lasciare uscire più facilmente ogni tensione residua. Ogni espirazione può dissolversi nell'aria, mentre inspiri benessere, rilassamento e leggerezza, scegliendo tutto ciò che ha bisogno di essere sciolto, scivolando via tutto ciò che ha bisogno di andare via, e che non ti serve più. e puoi chiedere in ogni momento, mentre io parlo ora con la tua mente inconscia. Mente inconscia, quando inizia il mio mal di testa, proprio all'inizio, chiudi gli interruttori che permettono il passaggio degli impulsi sgradevoli al sistema nervoso, così che non possano più trasmettere questa informazione al mio cervello. E fai scattare i tuoi sistemi analgetici del corpo, potenti antidolorifici naturali che tu sai creare. E metti anche in circolazione le informazioni degli analgetici che tu hai preso e che hanno dato i migliori risultati per rendere sempre più insensibile la mia parte interessata. Vai nella banca della memoria, per favore, mente inconscia, prendi tutte le informazioni delle migliori sostanze per me e mettile subito in circolazione. Ricordami quella sensazione di piacevolezza. Ricorda la propria ora e sommola l'effetto degli antidolorifici naturali, potenti antidolorifici naturali, che tu sai creare. Organizza al meglio tutti questi composti per me. La mia testa sempre più tranquilla, sempre più leggera e rilassata. Fino a che punto i muscoli possono rilassarsi? Questo mal di testa deve davvero durare così a lungo. Qual è il mal di testa più breve, meno doloroso, che possa soddisfare ogni ragione? Lascia che i tuoi pensieri siano liberi di vagare per il tempo che hai scelto. E ora la testa è sgombra, lucida, leggera, sempre più rilassata. E quando ti senti pronta, anima bella, ritorna alle tue attività, oppure addormentati. Ci vediamo alla prossima puntata, sempre qui sulla MindBody Coaching TV. Iscriviti Namaste MyBody Coaching TV Sollevo ora Sollevo ora